Buondi, buonasera e buonanotte. Che dire che avviciniamo pericolosamente alla fine di Phoenix Point. Speriamo che questa sia la penultima missione da affrontare e poi la chiudiamo, almeno con sinistro, dopo la sigla. Bentornati, salvatore dell'umanità. Allora, cosa abbiamo qua? Abbiamo un layout. Abbiamo tre strutture di pandorani, eh? Questo per divertirci un po' prima della fine, dai. Stiamo cercando Project Liberation. Il finale di tutto. Abbiamo otto cristalli, ci serve più roba per fare. Guarda quanta gente che c'è qua. Pessi rom. Ah, voi andate a distruggere questo. Voi tu hai... Chi ho Rooster che è un po' danneggiato. Anche Pover Ranger. Allora, andateci per far fuori. E l'altra che non riuscivamo mai a liberarcene. The Gift. Voi vi state ripregliando. Qua c'era una base di pandorana che non abbiamo beccato. Tu cosa ci fai qua? Ah no, l'hai spinto... Ah, vorrei riuscire a darvi, eh? Team Kabir. No, 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 no. Allora, capiamoci. Team Kabir che deve andare a... Far fuori questo. O questo. No. 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 Dov'è lo stesso. Oh, abbiamo un nuovo Sam... Un nuovo Mist Repeller. Sumrall Memorial Base. Dov'è? Sumrall Memorial Base. Qua. Voi vedere dove è ancora. Ah, è Nord America. Iniziamo a pulire un po' di Mist. Nord America. Per cui proteggiamo questo qua. la protemission field. Oricult ne abbiamo una marea. Quindi... Potremmo creare. Posso creare. Non è vero, no, la possiamo creare. Ma Sighter. Potremmo creare... Possiamo... Queste di armatura vari. Fenix Avionix era attaccata dai Pandorani. I Pandorani si vanno ogni giorno più spavaldi, eh. Se arrivi in Crystal Quarry, quindi tu devi stare qua. Tu chi sei? Delta Support. Prendi dietro. Quanta Mist che si è... mangiata. Dopo l'ultimo attacco. Poi potete attaccare. Allora, l'armadillo non ti serve in questo posto. Allora, io lo lasciamo a casa. Violetta bisogna. Non so chi lasciare a casa. Forse Zacca. Pensando che faccia esperienza... Lei. A pelle. Vieni. Memorandum per il futuro me. Ricordati di quando registri di chiudere Telegram. Allora, detto questo. Abbiamo una Terror Sentin. Qua c'è qualche cosa. Ne vediamo due. L'implementazione della Fog of War qua lascia abbastanza desiderare. Allora, vediamo un attimo. C'è una Terror Sentin lì qua. Che protegge niente. Ok. C'è un Dome qua. Ci potrebbe servire. Qua ce n'è un altro. Ok. Allora. Ci siamo. Lion Catcher. Al solito. Allora. Abbiamo un... No Zack McCracken. Che deve fare un bel balzellon. Balzelloni. Per esplorare... cose. Qui. Proprio sotto di me. C'è un altro Terror Sentin lì. E va bene. Però non ho trovato la... la spawner. Ehm... Tu sei Team, vero? Ma tu sei Baby Face. Riusciamo a farle fuori senza... Sì. No? Rapid. Sempre... Non bisogna mai... fare trappogli spavanti. Come si può. Perchè poi sono le volte che le prendi di più. La spawner. Cioè. Dov'è? E' di qua. Perfetto. Non so perché è ancora scuro qua, ma fa niente. Non mi interessa più di tanto, perché adesso mi interessa andare verso di là. e possibilmente prendere i Domba. Johnson Godoy. Andiamo. Goal Alpha. Counter Shadow. Messo proprio lì sotto, eh. Cosa ti serve? Farlo fuori? Ah, niente. Rimuoviamoci un po' più avanti. E ci mettiamo in attesa di qualcuno. Così la cintura rimane di qua. Violetta. Per metterti di qua. Per metterti non sbettivi la... cosa. Non sbettivi la... Molto bene. Pover Ranger. Pover Ranger può essere quello che si muove più avanti di tutti. Un uovo. Un uovo di Mindfrager. Ok, vabbè. Interessante. Un Arthron. Una sirena. Un uovo di 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 un dobbiamo sempre andare di là al fine c'è Angus Fangus dobbiamo mettere un ascolto di qua ed è zutto questo è fatto male non gli ho fatto niente stava molto peggio allora intanto vai a prendere qua Newtagen pare che non ho bisogno di niente ultimamente però Newtagen non si butta mai via bravissimo che dici vogliamo fare un po' di gentaglia oh questo è Tarshadow questo è per ultimo questo è un programante non è un programma non è un sloth 8, 16 e 24 direi ottimo guarda come kraken ci avviciniamo di là per far fare tutti quelli che servono ehm aspettavo per il resto il resto veramente non ci serve niente ok sto parlando quella più tranquilla ne dovremmo far più ma non lo beccheremo mai vabbè vabbè quello che si deve fare adesso è andare da questo maledetto e mi sarà a fargli male vabbè 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 如果 ovrca vabbè qui è Non so se riusciamo a beccargli qualche cosa Ottimo a me sarei tonto Angus Angus E questo? Attenta dov'è? Un colpettino Non riesco a scappare da nessuna parte Pessimissimo Ma come posso farlo? L'ho disattivato già tra le teste Questa non è stata una buona idea Adesso vai a prendere il momento giusto in cui sparare Non ce l'ho fatta ma comunque non era al massimo Allora Bazza che so E un uovo l'ho fatta Johnson Godoy Non stiamo a fare nel male serio sta roba Babyface Scappa E magari non ti spaventano Ce la fai? Sì Molto molto meno Ah va Io ho letto Anche là Non ci arrivo Scusate L'eufemismo Esecutando Non riesci a sparare Anche là Non riesci a sparare Allora Beh Scusate 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 Fu 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 Pues Fu Su Su Ci Qui Acpe siamo a... poter arriviamo... if shock value is greater than target is guaranteed hit points ok ok siamo stupendo domani no zack mcraken qui ci arrivi con la bomba lì si però non è caso adesso timecatcher forse qua no? sicuro? dove c'è violetta no non ho visto un punto dunque eh beh ma se è solo un punto non sa che... come non averlo? è qua cerchiamo di tirarla giù quella roba lì perché... non la può angus fangus anche tu va cosa è che abbiamo la ritirata? non c'è più nessuno allora questo è lo staccato questo è lo staccato questo è per gradire and allora possiamo uscire di qua con questi due dai un catcher non lo vedi? e' qua mmm questo è spaventato comunque un po' o no? max power vediamo se riusciamo a tirarlo fuori da qua no? vabbè vabbè quello è ancora paralizzato bene via dilapidiamo un po' di will point e cerchiamo di... mamma mia che tiro improbabile questo non è l'obiettivo giusto per questo perché continua a muoversi vai vediamo cosa riesci a fare neanche districcio vediamo vai l'anima è ancora attiva meno 90 di armor non è male no babyface tu vai verso una ritirata va vai in ritirata questo è andato? per quante impuzzini c'è questa cosa oh eccolo per la cattura l'ultima figura di questa qua 51 preferisco farla fuori ma malfunction 0% approfittiamone l'anima angus ok metti di qua marion catcher algo 7 alla 9 e ripigliatela lo metti di qua aveva bisogno scappiamo spawnery è andata possiamo andarcene anche tu vedo che c'è una gran mobilità contento di averti messo queste gambe è quasi morto 170 su 600 anche tu vai verso casa ah giusto il danno angus nel centro di massa bravo angus violetta via è un catcher vai pover ranger il jack mckrackham può già fare in ritirata anche lui max power in copertura di qua sono in guattore babyface min Sì, c'è lì, c'è lì Tancato Potevo non farlo Già intenziamo andarcene, va Uno solo circondato da gentaglia Lei non mi interessa, mazzaro Direi non male, direi non male Violetta e Angus hanno bisogno di livellare Bene, ci siamo portati anche a casa un gustoso tritone Un po' di materiale da rifare Però ci sta Andate al riparo dalla mist Qui ci sono altri ericone che posso andare a mano, no? Qui sta andando Delta Da superfrog che è un po' acciaccato Qui ci sono? Vanno andare anche lui a Phoenix ovviamente Vanno andare anche lui a Phoenix Adesso ho leggetto un po' di armor Ho usato un po' di armor Ho zue Kagura Però Non ha Ho perduto una mia ho zue Kagura Ma siamo un po' di livello basso Credo che era un altro Scorpion. A priori. Vabbè qua lo sfaltiamo sicuro ma... Abbiamo un team di rupi che sta arrivando qua. Ah no, era tornato lì. Possiamo già disfarlo. Andiamo. 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 Il nostro super team. Non ci siamo granché da modificare qua. Abbiamo qualche altra simpatica corazza. No. Abbiamo due Slegeton. Qua sono già attrezzati di tutto quanto. Potresti avere un... Andiamo. Andiamo al posto di questo. Ecco uno Scorpion pronto all'uso. Non volevo farlo ma vabbè fa niente. Forse c'era bisogno di più di... Tentacola. Allora evitiamo che ci sparisca. Come l'altra volta. Lavatrice. Prendiamo più di forza. Grazie. Depositi delicatamente. Prima qua. Ti prende la sciaccia. E l'obbligator come secondo. L'obbligator. Tentacola ti prendi questo. Vai dire che ci siamo. Andiamo. Eccoci qua. Allora. Solito. Bruccatino. Qualcuno percepisce altro... Altra robaccia di lì. Qua c'è un mindfrager. Qua penso sia bloccato. Bisogna andare di qua. Ma non vogliamo andare prima tentacola. Perchè. Oddio. Bisogna fare tutto il giro? Ma qua è tappato da sto roba. Perchè. Non il massimo. Allora. Allora. qui intanto potresti far rapiclira andati qua c'è una... qual è la torre che ha iniziato a muoversi? non lo vedi qua? non sta perciutto il giro no, da sto miei non scoprirà mai con questo... con questo topo di quello non scoprirà mai diabolic rosa non lo vedi qua? non lo vedi qua coprirà di qua non lo vedi qua mindfrager ma... mi bravo parla Oh, due a me, due a me, due a me Good all guarda la mella, guarda la mella quali erano inevitabile Ho come la vaga, la sensazione è che questo è buggatissimo. Non posso fare un bash. Questo è stato appena risuscitato, quindi è riacquistato, quindi niente. Oro, bene in vista qua, lavatrice. E qua dividiamoci in due gruppi. Aspetta, un piccolo passaggio. Si, tu, Q-Bert. Edona Bondi è dietro. Abbiamo due team da quattro. Ma almeno non è così banale questa qua, grazie a te. Ma va che sensazione che non possiamo andare fin lì? No, qua c'è il modo per andare. Eccolo qua. Vabbè già, ho rotto tutto. Termine Trigger è di lì, va bene. Non puoi controllare la torrena. Lavatrice, corri avanti. Okay. Qu tempesta, colpa. bersogna supporta per usare la schark. Ecco qua. Eh se gli viene in mente di ne fare un po' qualcosa in due passi in più avanti, lo fai sempre. Non va a un tipo arrivare. Ho già distrutto tutto. Non muore. Sperate qualcuna via rapid clearance da bule parte. Vediamo subito. Tu ahi rapid clearance. Allora, allora. Allora, allora. Mettiamo un po' di questi bacchettini. Paukjuber, così ti voglio. Però c'è implacabile. C'è un vermicello. Questa sarà l'altra torre. E' una geometria di mappa abbastanza maledizione. Abbastanza infame. Dobbiamo far fuori il vermicello. Queste sono lenti, ma si avvicineranno un po', eh? Copertura 1. E copertura 2. Diabolica, rosa. Va a vedere chi c'è da l'altra parte, va. Qua si sarà sicuro l'altro. Dopo Sgarden, vai a recuperare questa. Tutti disattivati. Eh, però, questa missione qua almeno non l'ho fatta come al solito, dai. Ecco l'ora, la trovo l'ora. Ecco l'ora, la trovo l'ora. E così ce ne si è liberati da tutto. E' stato più comoda. E' ben fatto lo stesso. Mmm, abbiamo bisogno di più cristalli. da commerciare un altro materiale, eh? Che abbiamo con me lo stesso. Questo è gas. 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 Qua abbiamo un po' di gente che darà una mano. Dai, l'inzio è polidiano. L'uvertur. Dov'è? Non possiamo lasciarle, lasciarle che si distrugga. Noi, non possiamo lasciare un altro materiale. Noi, non possiamo lasciare. Noi, non possiamo lasciare un problema. L'uverture è una voce. Liberty of Death Questa è l'ultima missione, ragazzi Ci siamo Questa è l'ultima missione Per fare l'ultima missione ci terrei che andassero Okramoth Ok, a questo punto farai doppia classe con Heavy Okramoth, dov'è? Okramoth, dov'è? Però non ho abbastanza punti per fargli fare Il fuoco multiple ho messo Rage Burst No, ce li ho Ci tengo che tu lo faccia Buon Okramoth Nel team di Okramoth Che è il team Foxtrot deve farlo E qua Team Epsilon Tentacola che mi ha salvato per tutta la campagna E quindi ci facciamo E ciò facciamo Che è la luce No, non stiamo costruendo niente Cosa brutta, 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 brutta Facciamo un altro shotgun Che ci servirà tantissimo durante l'ultima missione Ragazzi Il video è abbastanza lungo Quindi Ciao Ci vediamo la prossima volta Ci siamo quasi Ciao Grazie a tutti.